Ad oltre un anno dal crollo di un'aula all'interno dell'Istituto Marconi di San Giovanni Valdarno tutto sembra stia tornando alla normalità o quasi. Anche l'indirizzo moda, infatti, del caso ce ne eravamo occupati circa due settimane fa, tornerà nella sede di San Giovanni Valdarno. Precedentemente l'ipotesi era che i ragazzi potessero nuovamente iniziare questo anno scolastico nella sede provvisoria del centro pastorale di Montevarchi, con tutti i disagi del caso, ci avevano detto i genitori. È stato durante un incontro che si è tenuto venerdì scorso che la neodirigente Lucia Bacci ha comunicato ai genitori la buona notizia. Gli studenti del indirizzo moda troveranno posto all'interno del Marconi, in aule provvisorie ma in piena sicurezza, in attesa che nel mese di ottobre la provincia di Arezzo faccia partire i lavori per ristrutturare le classi attualmente indisponibili. La dirigente, spiegano i genitori in una nota, ha compreso perfettamente il problema e ha mostrato la volontà assoluta di riportare i ragazzi a San Giovanni Valdarno. Si tratta ovviamente di aule provvisorie, non sarà quindi una collocazione definitiva. Per questo ci è stata chiesta la massima disponibilità dei ragazzi e dei docenti. Noi ovviamente abbiamo chiesto una garanzia di sicurezza, concludono i genitori, che ci è stata data. Quindi siamo soddisfatti.